O di gampson springer o di jodler glinger, ja, da siamo da home, ja, tu e schien ma so in sonne non da gant in alpenland chiss vi unciano la vai di scherzi qui e in frio a danno sizien vi a rafla bei der Sennerin Buongiorno! Oh, vogliamo un brigadino? Prego, accomodatevi! Ah, brigadino! Dimmi, Luca! Eh... Oggi da solo? Sì! No, scusami è un mese che voi il vostro collega venite qua Beh! E come mai oggi da solo? Eh, oggi da solo sta di fronte, lo vedi? All'altro ristorante di fronte Lo vedi? Avanti, avanti sta, vedi? Ah! E' andata a mangiare alla concorrenza? Scusi, e perché è andata a mangiare là? Eh, ieri sera è andato il dentista che gli faceva male il molere Ah! E il dentista ha detto mangia dall'altra parte Ah! E' andata… E' eee, vai, dov'けれbbe aver Sì, sì, sì Grazie.